Non sono una persona particolarmente spirituale, non sono una persona religiosa. Diciamo che sono cresciuta in una famiglia religiosa dove si raccontavano, cioè mio papà, ne avete già sentito parlare, a lui piaceva raccontare le storie, a volte anche un po' esagerate. E una delle cose che ci raccontava, ricordo da bambina, era che se si passa davanti a uno specchio a mezzanotte con la candela in mano si vede il diavolo. Quando poi ci provai a fare l'esperimento non accade niente, con mio grande disappunto. Perché vi dico questo? Perché non credo particolarmente nemmeno alle cose sopranaturali, non credo ai fantasmi, a queste cose qua, ma semplicemente perché non le ho mai viste. Però c'è, ci fu un momento nella mia vita quando credetti di aver visto proprio dei fantasmi. Ora vi racconto di cosa si tratta. Qualche anno fa, quando ho cambiato casa abbastanza spesso, uno di questi cambi casa sono andata a stare in quella che poi è stata la mia ultima casa a Melbourne, una casa molto bella, su due piani, con il parquet, un bel parquet lucido in tutte le stanze, front yard, beh, chiarissima, una casa molto molto caruccia. E come voi saprete, quando si va a vivere in un nuovo ambiente, ci si deve un po' abituare agli spazi. All'epoca facevo la freelancer, quindi trascorrevo anche molto tempo a casa da sola. E sì, mi dovevo abituare ai rumori della nuova casa, era proprio davanti alla stazione ferroviaria, quindi avevo il rumore del treno. Ricorda che quando stavo nello studio al piano di sopra, dalla finestra vedevo proprio il treno che arrivava in stazione ed era una cosa fantastica. Però dopo essere stata lì, nelle prime settimane che abitavo nella casa nuova, mi ha preso una strana sensazione, perché ogni tanto con la coda dell'occhio era come se vedessi, boom, di sfuggita qualcosa che passava. E ripeto, io non sono una persona particolarmente spirituale, però diciamo che il pensiero mi è venuto, anche perché mi è capitato diverse volte, e non riuscivo a spiegarmi che cavolo fosse questa cosa che vedevo sempre con la coda dell'occhio, non riuscivo mai a mettere a fuoco, non riuscivo mai a vedere finalmente cosa si tratta. E poi finalmente l'arcano venne risolto, non si trattava di un fantasma, di qualcuno che abitava lì prima di me, bensì era il fatto che appunto nella casa dappertutto c'era il parquet estremamente lucido, e le cose che vedevo di sfuggita erano i riflessi delle cose, del gatto, delle cose che passavano e che si riflettevano appunto su questo parquet molto lucido. Mistero svelato, quindi sto ancora in attesa dei miei fantasmi. Quando li vedrò ve lo farò sapere.